Ancisa semana cina nove dias. In portuguesi gis semana, in italiano però si dice settimana, settimana, parola che evidenzia bene il fatto che sono sette i giorni che la compongono, ma non è stato sempre così. Anticamente, infatti, questo ciclo era composto da otto giorni, nonostante si chiamasse ciclo nundinale, che significa periodo di nove giorni, ma erano otto o nove. Il ciclo nundinale era parte integrante del calendario romano. Ogni giorno all'interno del ciclo era indicato con una lettera da A a H, otto lettere per otto giorni. L'apparente contraddizione relativa al nome si spiega col fatto che i romani includevano sia il primo che l'ultimo giorno del ciclo nel conteggio, quindi dal loro punto di vista il periodo risultava essere di nove giorni, anche se noi oggi lo considereremmo di otto giorni. Ogni ciclo, quindi, durava otto giorni, con l'ultimo chiamato nundinale, nono giorno. Questo giorno era particolarmente importante perché era l'unico del ciclo dedicato agli affari e alle attività civiche, mentre gli altri erano ufficialmente dedicati a celebrare le divinità. E come mai oggi abbiamo sette giorni? La settimana come la conosciamo oggi è testimonianza del passaggio dal paganesimo al cristianesimo e deriva dalla cultura ebraica. Vi ricorderete che nella Bibbia si dice che Dio si riposò il settimo giorno, no? Già che ci siamo, vediamo come si chiamavano originalmente i giorni della settimana in latino. Posteriormente, l'imperatore Costantino, il primo a convertirsi al cristianesimo, sostituì la dies solis, giorno del sole, con la dies dominica, giorno del Signore, effettuando un compromesso tra mondo pagano e quello cristiano. Ma i cristiani già allora affiancavano le proprie denominazioni a quelle ufficiali. Dies lune, feria secunda. Dies martis, feria terzia. Dies mercurii, feria quarta. Dies iovis, feria quinta. Dies veneris, feria sexta. Saturni dies, sabbatum, parola che deriva dallo shabbat ebreo. Dies dominica, dies dominic. Ecco da dove deriva il termine feria in portoghese. L'adozione delle denominazioni cristiane spiega anche il perché dell'ordine diverso dei giorni della settimana, in italiano e in portoghese. Già che dedicata a Dio, la dies dominica era ritenuta dai cristiani più importante delle altre e quindi assunse il posto di primo giorno della settimana. In italiano, tuttavia, si è mantenuto l'ordine precedente. Ecco perché il lunedì è ancora il primo giorno del ciclo di sette giorni. E concludiamo con un'ultima curiosità sulla parola feria, che con il passare dei secoli cambiò senso. Il significato classico della parola latina era giorno festivo, periodo di vacanza, poiché, come abbiamo visto in precedenza, l'unico giorno dedicato agli affari era il nono giorno, mentre gli altri erano ufficialmente dedicati a celebrare le divinità, ed era vietato tenere processi e convocare comizi. Posteriormente, tuttavia, il senso della parola fu completamente ribaltato. Nella sua interpretazione ecclesiastica assunse il significato opposto, e cioè di giorno non festivo della settimana, poiché l'unico giorno da considerare festivo era la domenica, il giorno del signore. Ecco perché nell'italiano odierno la stessa parola può indicare sia il periodo di riposo, le ferie, sia il periodo lavorativo, giorno feriale, come contrapposizione a giorno festivo. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e iscriviti al canale per non perdere i nostri video. Un caro saluto, alla prossima!